Buon tardi, gli ultimi tocchi è il congelente, andiamo! Real Jam davanti a Rock of Malta, Bijou Bijou, Goldrake, The Lionfish, Cutniphan, White Flower, poco prima dell'ingresso in dirittura prosegue in vantaggio Real Jam davanti a Rock of Malta, Bijou Bijou e Goldrake. I cavalli entrano in dirittura con Real Jam in vantaggio a centropista davanti a Rock of Malta, Bijou Bijou, The Lionfish, Refugee, e in vantaggio Real Jam davanti a The Lionfish, Rock of Malta, White Flower, Linus Pauling. E' un leggero vantaggio a The Lionfish allo steccato opposto davanti a Linus Pauling, Bijou Bijou, Real Jam e Rock of Malta. Conduce The Lionfish davanti a Linus Pauling e Bijou Bijou. E' un vantaggio a The Lionfish davanti a Linus Pauling e Bijou Bijou. Arriva la ritoria di Cristo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!